Il primo tempo siamo entrati un po' timorosi perché comunque affrontavamo l'Empoli che è una squadra diciamo tra virgolette da battere quindi siamo entrati un po' timorosi il secondo tempo ma nonostante tutto comunque un primo tempo è stato abbastanza discreto da parte nostra, il secondo tempo credo che abbiamo fatto un'ottima partita siamo stati per larghi tratti per l'une del campo e l'Empoli non ha mai secondo me è tirato in porta anche il secondo tempo supplementare poi è arrivato questo gol su un calcio piazzato dove noi secondo me abbiamo abbastato un po' la concentrazione perché per il fatto che sono rimasti in dieci questo è significativo perché nel campionato di Serie B l'attenzione deve essere sempre alta però secondo me abbiamo fatto una buona gara per larghi tratti secondo me l'abbiamo gestito anche bene sono contento della prestazione della squadra ecco della tua prestazione dal primo minuto nel ruolo di play praticamente no? sì, sono contento anche della mia prestazione, tutto sommato è stata positiva ripeto loro secondo me sono una squadra da battere, una squadra composta da giocatori veramente forti allenata bene, però noi dal canto nostro oggi abbiamo fatto veramente una buona gara e abbiamo messo in difficoltà in larghi tratti della partita adesso testa il campionato? sì, adesso sabato e domenica pensiamo al campionato sono convinto che faremo bene, sarà un campionato molto bello a vincente iniziamo subito con una partita veramente difficile però noi se mettiamo in campo lo spirito che abbiamo messo oggi di unione, di compattezza, di sacrificio cercheremo di fare una grande gara, abbiamo delle buone qualità io credo che abbiamo delle buone qualità e non sappiamo neanche noi quante qualità abbiamo quindi dobbiamo solo cercare di scrollarci un po' di situazioni, un po' non pensiamo ma negativi dobbiamo pensare sempre positivo e andiamo a affrontare la partita a Salerno carichi e motivati per cercare di regalare una soddisfazione ai nostri difusi grazie!